dopo e poi un boomerang. Gran parte dell'informazione la iniziamo in clinica con quei libri per esempio che vi fanno vedere i problemi che possono accadere con le fotografie dei denti rotti per esempio. Quelli sono problemi che possono accadere, abbiamo iniziato a fare le fotografie e ora faremo una diffusione sempre più capillare di quelli che sono i problemi che possono accadere perché con le immagini educhiamo, con le immagini facciamo capire che sono materiali artificiali, questi sono per esempio provvisori rotti, gengive che si retraggono, questo per esempio è un provvisorio staccato e facciamo vedere con le fotografie che sono materiali artificiali. Possiamo spegnere così la luce, così si vada bene, spegne la luce così, tanto qua c'è illuminato. Questi sono problemi meccanici.